Ciao ragazzi, grazie di essere con me oggi oggi proviamo ufficialmente i nostri Rude N2G con l'inoutible e oggi andrò a mettere un libro che vengo da dire che si chiama Kriya Turensi l'ha scritto una persona che io stimo e ti libro sulla 10 cosa sapere prima di iniziare la discussione ogni capitolo a fronte di noi approfondi tra tutti e per te riguardate le discussioni e andrò a leggere la primessa la prima cosa mi piutterebbe molto a fare un feedback sull'audio e sull'inoutible in generale con questi microfoni so che dovrei tenerli leggermente più in un'anima e la verità è che non ci sto qui la verità è questa condiviso la prima mi piutterebbe quando un'amica ha un mio carico e un YouTube mi c'era suprimperato il libro della prevezza sull'indicare sei notte o la prevezza si chiama cosa ha detto nel libro altrimenti vi auguro più di una cosa completamente diversa non è più facile dirgliare e dirvi che è una premessa che non c'entra nulla tutto il resto effettivamente avrebbe avuto sesso avrebbe avuto però per me questo libro non è un sacco è una posizione scarta dei miei bisogni e bisogna anche tutto dirmi perché quindi in questa premessa parlerò del contenuto perché la mia mica ragione come spesso accade ma racconterò le motivazioni che mi hanno portato per scrivere questo libro del cui non esiste neanche una pagina mentre mi chiede dritto sui tasti e parlando del perché di conseguenza vi parlerò del come il modo in cui vorrei scriverlo a cosa mi piacerebbe che pensassero e leggendolo come vorrei che vi sentiste ho deciso di scrivere questo libro perché credo fortemente modestamente che sia necessario capiamoci non è necessario che io scrivo questo libro perché i concetti di cui vi parlerò sono già scritti da altri molto più preparati di me e ci sarebbe qualcuno rende questi concetti probibili a chiunque al genitore non è legato in un libro di testo che leggono solo i testi lavori ci sto trovando io perché non sto facendo nessuno che in un punto nella vita e così rendi conto che quella cosa che ti sarà non è necessario non è necessario non è necessario perché nessuno lo farà al posto tu mi sento come al riporto che quando vieni a se stesso rischi della morte tra l'altro parte è blanco aspetta che il padre ha salvato ma il padre non arriva e allora capisce che il padre o no ciò vuole spirito di protettore ma ciò vuole insieme ad un animale che appare su chiamato scusando fuori dal panchetto deve affogarlo lui spesso in un mondo più che l'innovità vera per le persone litiche e anche furiosamente per delle questioni che si risolverebbero in 5 minuti al massimo solo fa passare certe cose ci sono delle regole di base della comunicazione delle indicazioni su come poter percepire il mondo attorno a noi delle teorie della psicologia umanistica e un altro paio di cosette che non tantamente possono però stramolgere il resto della discussione le perdono per lo scontro perché partono dal presupposto che la loro ragione implichi l'avere tolto dall'altro che significa non prestarla a minima te nel mondo dell'altra persona che ha trattato convinto di aver ragionato ecco si può imparare a smettere a smettere di credere che il sole giri in turno senza percorrere un altro paio o silenzione le nostre emozioni più persone che ci sono queste cose o meno troveremo mai di arline infatti di commenti peliti di cui nessuno legge nessun altro viene infatti che tutti fanno dire per la propria strada e vi sto piacendo perché davvero questo linguaggio sarà con le persone possibili voglio scriverlo come se stessi parlando di questi argomenti fra amici voglio usare un linguaggio che mi piace un po' perché il mio pubblico abbastanza giovane un po' perché credo che un concetto sotto in maniera complessibile sia più probabile anche da un pubblico tutto c'è questa convenzione convenzione che per scrivere un libro su un tema serio si dobbia essere serio finendo per scrivere pranzi che s'omigliano alle esperienze di amici miei alle quali però dobbiamo tutti ingerire come se stessimo capendo io credo invece che un concetto importante fa letto in maniera più agita possibile perché la cultura non dovrebbe appartenere perché la storia lettera ti vorremmo smettere di pensare che gli impeciti siano un sinonimo di intelligente io sicuramente sono una persona difficile ad esempio ecco non ho altro da premettere voglio dire delle cose che potrebbero anche aiutarci nella vita e voglio farlo senza che il libro suoni come un beat di un dottorato vorrei che vi sentiste comprendi vorrei che vi sentiste compresi se ti accotti per che questo scritto diventasse un porto sicuro nel quale ben ritorno ai momenti di confusione vorrei farvi riflettere vorrei farvi ridere e vorrei davvero davvero riuscire a giurci perciò cominciamo l'expetto padrono sono addurro questa parte più difficile la prima cosa a fare quando ti si è pronta la discussione provarati veramente le cose che noi abbiamo visto accadere le cose che sono cadute nella mente non coincidono quasi mai o comunque non necessariamente vorrei stare dicendo Irene abbiamo detto di farla che è un piccolo di pace avete ragione facciamo un po' se indietro noi impariamo a conoscere il mondo che ci circonda attraverso la percezione vediamo vediamo tocchiamo ma partiamo dal presupposto che stare vedendo ciò che c'è sto scrivendo questo capito con una camera del perco mi guardo il giorno mi ha detto bellissimo lavorino in un nuovo ruolo di paretto fortunatamente dico bella una mezzata con i fessi in legno e poi ciò che non c'è non c'è nessun shabllo che ho finito non ho detto di esprimare la portata ecco se qualcuno mi piace quello che hai visto in camera è tutto ciò che c'è in camera che risponderei sì ma non è vero in questa camera ci sono altre cose che non posso vedere cose che ho ancora visto perché ho ancora una cosa che ci sono e cose che ho visto che in realtà non ci sono perché hanno un occhio allenato ora scopriamo insieme come comunque trovare la differenza della settimana mistica anzi tu ho fatto appena di aprire polvere detto così potresti fare sempre una pessima eccessione l'ultipadvisor 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 e l'ultipadvisor non rimane piena di fiamma polvere l'ultipadvisor lo è tratturalmente alla mia lettera un po' di volta venivano del mio telefono sullo schermo ma si sta dando una testa nel barco di micro che non capisce soggiornati quando c'è nessun padre e poi lo telefono se tu c'è un amore e non abbiamo problemi in appoggiare su un linguaggio perché? perché l'essere umano non può vedere i materi senza utilizzare strumenti specifici e quindi è il momento di dare un'informazione noi vediamo la realtà davvero dei filtri sono un po' più Matrix Lens ma poi ci siamo in due nello specifico parliamo di tre filtri il primo è quello biologico non possiamo vedere tutto sentire tutto non vedo la polvere così come non vedo i profassi e non vedo il suo questo vuol dire forse che non esistono penso davvero ad essere così arrogante da pensare che siccome non lo sto vedendo che non ci sia non poter vedere o sentire tutto significa che non possiamo avere ogni punto di vista una volta che ho preso questo passaggio scatto evidentemente una domanda cos'altro non stanno vedendo facendo i vesti un po' inconsciente ma sempre meglio che vivere nel giro se ne riconoscerò tutto proseguiamo con il tour dopo la sua sentimentale legge tra parentesi fortunatamente questo perché vivendo in una società che da sempre più importanza all'ambiente agli animali al rispetto alle diverse forme di vita essere eco-friendly e sostenibili sta diventando addirittura una moda perciò mi sono portata a pensare che le coperle sia meglio per la pelle vedo quel divano rimangono anche su qualcosa di quella scelta questo secondo filtro è più filtrato cioè non possiamo approcciare il mondo del tuo criterio non possiamo non avere anche filatura quando guardiamo la realtà insomma non possiamo nemmeno un punto di vista di mano faccio qualche fornizione però quello che mi portano a pensare piene di questo albergo spostano guarda sinistra continuando il gioco cos'è quella cosa attenta ma non è chiaro ah è il domani non so dire la televisione giuro che è la prima molto bella di youtube e riserla di vera lì ho davvero pensato sul tuo scenario e la fine mamma mi piace tanto i 30 gt mi piace da quello incriminato ogni volta che lo guardo nel campo mi piace molto anche l'altro con l'altro fotografo mi piace chiaro e mi piace molto e mi piace chiaro lo provo ad insinare il tavolino marmosello ricercato quando mi ha fatto uno scato di produzione a pensare che mi resta una parecchia insomma i miei gusti influenzano le mie percezioni e questo è il terzo video il video personale adesso togliamo che è il nostro punto di vista che è parziale per la televisione noi conosciamo la ventana come un panino frio non abbiamo un quadro completo già diciamo che facciamo i piccoli frammenti che vediamo diciamo un ruolo della realtà in sé il mondo più fluido non direi che se la fanno guardando che ho fatto io non ho fatto tutto il tavolo in legno però ho presunto che il libro non fa sempre non dice nulla starete su tutte cose che parlano di me del mio modo di guardare dei miei gusti delle mie convenzioni delle mie scelte quando ho guardato le previsioni medie prima o lì perché ho visto meno 11 gradi ho pensato cavolo lì l'escrittore può essere giornalista per farla di con piacessarlo raccontando l'esperienza in un campo di quale c'è troppo tutto si iscrive nei racconti dell'accordo è il testo suono termomenutrati improvvisamente dell'autorità rinforzando il suo finello e abbandonato della ruola abbiamo capito di un potere divina di conoscere anche la stanza albergo che non cambia meno che ha gli strutturi rimanato adesso con il coraggio potremmo dire riconoscere un'altra persona una persona che è molto mezzo vivente con dei pensieri che potete condividere che fa parte delle cose che continua a vivere anche se non la vediamo e che vuole costantemente passiamo a restare tutti insieme vediamo la persona che conosciamo meglio il mondo la mamma l'amico il fratello la figlia ognuno scelga uno e adesso alla luce di quello che avete detto prima letto provatevi che voi la conoscete perfettamente non mi sto scappando l'arrivo e se è così per la persona che conosciamo meglio perché abbiamo avuto spuggito un paio di volte quelle cose che non abbiamo neanche mai parlato non eravamo certi aver ricordato le bellezioni anche lì secondo me avete avuto un paio di scambi avete parlato con me di auto facendo interferenze su di lui sicuro votatizio sicuro un paio di facaio sicuro un paio di sembroni visto che ve lo i ne fatti non sapete nulla tutta quella attenzione di giudizio che avete ampilato l'uno dietro l'altro a chi siete riferati ai 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 signor non cari mi credo sulla presunzione niente paura ne lo facciamo a te anche lui sto facendo questa cosa con voi ha detto quelle tre frasi che vi fanno scritte vi ha inquadrato a vedere su che siete senza mai avervi visto magari senza neanche sapere i posti però no ma come accade qual è il processo che ci porta a vedere un impidissimo della realtà che in questo caso è un'altra persona e decido di riconoscerla tutta vediamolo insieme non voglio spoilerarsi troppo ovviamente però ho una mezza idea di fare per esempio una specie di club del libro in modo che non lo so però mi sarebbe lo so però ci sono tutti i libri mi scusami andrebbero letti anche più solamente questo libro mi sta servendo tantissimo più lo leggo più mi accorgo di quanti errori facevano le conversazioni soprattutto quelle persone a mia vicina è è è veramente veramente utile è è proprio carica c'è proprio carica spero per questo di video ipod con i robot vi sia piaciuto io mi sto ascoltando ma non so appena ancora come sia venuto sono molto piaci di capirlo infatti si sto usando il screen perchè tutto voglio spiegare però devo stare per forza il screen spero di trovare una situazione un po' più comoda questi microfoni che dovrebbero essere più lontani leggermente più lontani e niente mi lascio un po' il top è un po' più un po' più un po' più un po' più in tutto il schermatico ti metterò tipo un discremer con il fatto che la unipol bandiera la unipola è un prevenito da pensare la vostra parola insieme solo scriverò proprio la vostra però non c'erà ed è anche ora di a parle e augurarvi una buona buona buonanotte 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 sogni d'ora sogni d'ora molto calcio toni torro, buona notte, buona notte buona notte che ti spero